Eccoci qua, allora Maurizio, incominciamo a vedere qualche immagine perché la curiosità c'è tutta, incominciamo con i delfini. Andiamo con Pert, facciamo vedere un attimo Pert. È una città di dimensioni, eccola qua. A due milioni di abitanti. Vabbè, bella così stessa. Pert è una città che ha 320 giorni di sole all'anno e ha solo 40 giorni in cui ci sono le nuvole, noi siamo arrivati, vedete ci sono delle nuvole, è stata una cosa rara, ma quello che è stato più incredibile è che quando abbiamo preso la macchina a noleggio c'è stato un tramonto fantasmagorico con dei colori incredibili, però abbiamo detto che eravamo stanchi, dovevamo tirare fuori le attrezzature e tutto, abbiamo detto no, la lasciamo stare, la faremo domani il tramonto, basta, più visto un tramonto così. Qui siamo a Cervantes che è la foresta pietrificata. Che si parte appunto di questi alberi. Sì, che hanno due milioni di anni questi alberi qua, sono a Nambung, il parco praticamente di Nambung. È un deserto sostanzialmente. Sì, è nel deserto, esattamente, è proprio nel deserto. Se guardiamo bene, non è che ci sia, cioè uno si ferma, ne guarda uno dove vede praticamente più le venature dell'albero, quello che era via di seguito, poi c'è questo camminamento in mezzo a tutta questa foresta che ti segna lì il tragitto. Però vedi i canguri. I canguri ci hanno accompagnato durante tutto il viaggio, ci sono 40 tipi di camburi, il canguro più grande è il canguro rosso, arriva quasi a 100 kg di peso e vai oltre i due metri di altezza. I treni stradali, i camion che hanno due o anche tre rimorchi, un bilico, questo qui è la grandezza che c'è, chiaro non c'è il traffico per cui non è che fa niente, questo è impressionante, ci sono tre cisterne di benzina che vanno avanti. E uno deve stare anche attento quando fai i sorpassi. Eh beh sì, però vedete c'è molto traffico. Stato il deserto praticamente. Sì, qui siamo praticamente a Red Buff e Calberry che sono le località che dicevo prima proprio dove hai queste bellezze. Ah anche qui sulla costa ci sono i canguri. Sì sì sì, dappertutto, dappertutto. Ah quindi scorazzano liberi, non in patti? No no, proprio liberi, ma ce ne sono tantissimi e purtroppo i canguri creano anche tanti incidenti perché vedremo, questi sono due pappagallini che ho voluto riprendere. Sono come i nostri cinghiali praticamente i canguri. E beh il canguro rosso lo mangiano anche, diciamo non è molto gradito, guardate qui siamo proprio io e la Patrizia che siamo andati proprio nello strapiombo. a vedere il panorama, ma è molto bello. Guardate la protezione che ha questo fuoristrada, questo è solo per i canguri, perché i canguri attraversano la strada di corpo e se lo prendi sotto un animale di 100 kg, qui purtroppo li vediamo che li hanno presi sotto i camion e via di seguito. Ma ce ne sono tanti presi. Ce ne sono tanti di canguri, ce ne sono tanti e bisogna stare veramente tanto attenti. Ma sono aggressivi? No, 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 assolutamente. Cioè sono impauriti. Qui vediamo, passiamo il 26esimo parallelo e stiamo andando su verso l'equatore, siamo nell'emisfero sud. Faceva caldo. Sì, 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 è stata piena. Questi sono i termitai. In questo caso qui i termitai, questi qua sono abbandonati e l'abbiamo saputo dopo, forse non mi sarei tanto avvicinato così. Diventano anche tane di serpenti facilmente. Mamma mia. In Australia è pieno di serpenti. Infatti, ragni e serpenti velenosi, la patria. È la patria. Proprio. Ma giravate da soli o con una guida? No, no, eravamo da soli, abbiamo affittato una macchina, sapremmo dove andare. Questo è l'EMU, lo struzzo praticamente australiano, eccolo. E questo è incuriosito, noi ci siamo fermati con la macchina ed si è avvicinato lui a vedere chi eravamo. Cioè è proprio bellissimo. Poi li abbiamo trovati anche dentro nella cittadina, girano liberi. Ah, non sono di proprietà di Alginal. No, 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 qui siamo proprio fuori da ogni centro abitato, proprio assolutamente. Guardate, proprio in fianco a noi, ma non ha... Bellissimo, caspita, veramente. E sono anche belli grandini, ma non sono aggressivi questi. No, 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 ecco qui vediamo, quando si vede un canguro, cioè siamo nella terra dei canguri, d'altronde, sono animali. Vedete come attraversano la strada? Eh sì. La velocità con cui attraversano la strada. Quindi non puoi neanche correre, cioè di strada. No, beh, qui alla sera, alla sera vengono bloccati dai fari, però si vedono più facilmente, se si ferma così nella strada lo vedi più facilmente. Qui Lemù e qui siamo proprio, siamo arrivati a Monchimai, che è questo paesino, praticamente, sono paesini piccolissimi perché se noi togliamo le città principali... Eccola qua, guarda qui. Eh, questo è il varano, un varano. Non sono i draghi di comodo enormi, però i varani, ricordiamoci, che sono un po' pericolosetti, perché non c'è antidoto. Loro hanno una grandissima carica batterica nella saliva e in più hanno anche una ghiandola velenifera, per cui se ti mordono è difficile la cura, molto difficile la cura. Sì, addirittura. Eh, sì. Ma questo anche questo era lì, tranquillo, libero? Sì, no, ma finché sono così piccoli scappano, sono quelli indonesiani a comodo, che sono più bruttini e più pericolosi, ecco, però insomma, e qui vediamo i grandi, i canguri che se ne vanno via. Adesso vedremo una scena. Perché un'altra volta in Australia tu invece eri andato in una zona dove non ce n'erano tanti di canguri. Esatto, esatto, ma qui c'è pochissimo traffico e pochissime zone abitate, per cui sono rimasti loro, proprio territorio loro e quindi li troviamo molto più facilmente, ma li troviamo moltamente, ecco qua. Quanti c'è? Guardate qui, la mamma col piccolo, che si ferma poi di colpo e il piccolo non fa in tempo a fermarsi e sperona la mamma, qui lo vediamo un po' rallentatore, la mamma si ferma e lui si capotta ad osso. Questa è una scena che mi è piaciuta moltissimo proprio, ecco quel piccolino. Che bello piccolino proprio, sono... Che dimensioni hanno questi qua quando sono in piedi? Beh, qui di solito arrivano all'anno e non entrano più nel marsupio della mamma. Ah, quindi, perché fino all'anno di età stanno dentro il marsupio? Sono dentro il marsupio, sì. Ah, ok. Sì, sì, sì. Qui siamo a Monchimai, dove vediamo i delfini, qui ci sono i pellicani che ci accolgono, che proprio assolutamente anche loro sono abituati alle persone, stavamo vicini, loro vorrebbero che gli dessimo da mangiare, quindi è pronto pensando che gli stiamo dando da mangiare, poi si arrabbia quando vede che non gli diamo niente, ma comunque, eccoli qua. E dopo, in realtà, aspettavamo i delfini, qui sto cercando di farmelo amico, poi alla fine, eccomi, adesso... Eh, però, ti potrebbe anche... No, ma non fa niente, ecco, adesso qui abbiamo fatto pace, ecco, accettare le carezze. Qui vediamo un pesce palla che ha sbagliato la direzione, sta spiaggiando, poi ci avviciniamo, allora prende paura e riprende l'acqua e scappa via, eccolo là. Aspetta, fino sulla riva, addirittura. Sì, sulla riva, ma adesso vediamo, eccoli che arrivano, eccoli qua, è una famiglia intera. Quindi erano delfini liberi, tranquilli? Sì, liberi, non hanno nessuna rete, non hanno nessun blocco, loro vengono vicini, ecco, quello che ci chiedevano, se avevamo delle creme per proteggersi dal sole, perché un delfino soffriva di una congiuntivite dovuto a crema, perché la crema si scioglie nell'acqua e gli è andata nell'occhio, ecco, quindi sono quelle cose che pare impossibile, la crema, eh sì, se tu gli vai vicino, perché proprio vengono vicini a mezzo metro, la crema gli può creare un disturbo e quindi, e quello si raccomandava, veniva da accarezzarli, perché guardate, i delfini è una cosa incredibile, guardate, vedete l'affondo, è 50 centimetri. Infatti, quindi l'acqua è proprio bassa? Sì, infatti noi pensavamo di fare le immersioni, ma a parte che in un basso fondale del genere muovi un po' la sabbia a te, muove la sabbia a lui, non ci si vede più niente. Guarda che occhietto che ha, sì. Ma questo veramente è stato, io dico, questo viaggio merita ad andare lì per i delfini, c'è questo fenomeno proprio del delfino che resta praticamente, che viene fino a riva, vuole colloquiare con te, è proprio, è una cosa incredibile, incredibile, veramente bello proprio vederli così. Ma questa immagine sott'acqua? L'ho suonato con la telecamera, quella subacqua e l'ho messa sotto per vederlo, ecco. Perché non vi siete immersi? Sì, no, no, non ci siamo immersi qua. Come se si volesse far coccolare. Sì, ma veramente, veramente, è proprio incredibile, eccoli qua vicini. Ma loro vengono vicino a riva perché, incuriositi? Incuriositi? No, ogni giorno, ogni giorno non hanno un orario preciso, cioè ad esempio noi è detto sulle dieci arrivano, arrivati a mezzogiorno, vabbè, capita, voglio dire. Però quando loro decidono di passare, passano, poi ripassano alla sera, quando tornano e vanno in una baia che è dopo, dove eravamo a questa spiaggia, c'è una baietta, e dormono praticamente in questa baia, e li vediamo là. E quando dormono, cosa stanno? Sul fondo, appoggiateci? No, 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 devono respirare. Ah, già, è vero. Devo respirare, quindi sono in superficie e stanno praticamente a galla. Sì, onestamente qualcosa nel loro, diciamo, sistema c'è perché devono darci qualche colpo di pinna ogni tanto per non essere spiaggiati, anche che non ci siano correnti, quindi hanno qualcosa che funziona sempre come, diciamo, sistema di sopravvivenza e di movimento, però dormono a galla. Esatto, qui si stanno spostando? Sì, e qui ecco, siamo andati a Exmount e qui siamo praticamente pronti per le nostre immersioni. Avete preso quindi un'imbarcazione? Un'imbarcazione, sì, sì. E una specie di crociera? No, no, uscivamo dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera. Qui correnti, bisogna stare un po' attenti, allora all'inizio si va in acqua, i primi che sono pronti, si attaccano alla cima che buttano giù dalla barca, quando si è tutto in acqua si va sotto e si parte, si cerca di rimanere più uniti possibile. Mamma mia, come erano, erano bravi? No, erano bravi, dai, erano bravi. Come mare, è un mare tranquillissimo, perché, voglio dire, quello che abbiamo visto qui, a prescindere il discorso dei delfini, che è un'altra cosa, è una ricciola, per realtà che viene vicino, è bella da vedere, ma poi quello che possiamo vedere è a Charme, l'abbiamo visto qui. Io non posso fare il critico di dire non ho visto niente, no, perché c'è sempre qualcosa da vedere, però dopo circa 2000 immersioni penso di aver visto quasi tutto. Tu sei un caso un po' raro, però effettivamente ci sono cose interessanti. Però ogni volta che vado, ad esempio questa razza ammaculata è comune, non so quante volte l'avrò ripresa, però mi piaceva, era lì ferma, pacifica, tranquilla, bellissima, vedere questi puntini. Però non tutti sono uguali, perché l'avrei anche ripresa tante volte, però magari ci sono anche sfumature diverse, penso che siano anche adattamenti al luogo. Esatto, sì, al luogo, esatto. C'è sempre dopo, poi c'è l'endemico praticamente, che è una modificazione di quello che è lo stato proprio del pesce, che si trova solo in quello stato, che praticamente lo troviamo. L'endemico è una cosa particolare che varia. Il pesce è un frogfish, è un pesce rana nero. Ma dai, un pesce rana nero, che bello. Ecco, qui vediamo un branco di pesci gatto. Questi qua sono paragonati ai calabroni, qui si sembrano spiccolini, occhi belli. E sono piccoli questi pescetti qua. Ah, infatti è un pesce gatto grandino. Esatto, mi hanno detto che sono dei pesci gatto, che però beccano e creano praticamente a livello di calabrone, se ti posso donare uno sciocano filattico, quindi dobbiamo stare un attimo attenti. Ecco, questo qui è uno squaletto pina bianca, ripeto, è meno pericoloso dei pesci gatto che abbiamo visto un attimo fa. Ma il pesci gatto non l'avevo mai visto in precedenza, però non l'avevi mai ripresi? No, anche perché onestamente non è che si trovano spesso quei branchi così di pesci gatto. Questo è un polpo che sta praticamente, vediamo il suo mimetismo, come cambia il colore rispetto ai colori che sono sul fondo. Bellissimo, mamma mia. Anche il polpo è affascinante comunque, senza dubbio. Ma questo sistema proprio veramente di cambiare, questa è una cernia. Con questa, con la cernia, sospendiamo un attimo. Allora, Maurizio, andiamo in pubblicità, a Caletta Sfattore state con noi naturalmente, tra poco ritorniamo sempre sui fondali.